There's no place I'd rather be 1, 4, 3, 2, 1 Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per fare un mega prank Sono le 23.47 E oggi io e mia madre abbiamo intenzione di fare un prank a mio padre In poche parole ragazzi gli spalmeremo il dentifricio sulla mano Gli faremo il solletivo sul naso così che si spalmi tutta la mano sul naso E tutto il dentifricio andrà a fine faccia Avevo già fatto delle piccole prove in questi giorni Con cui provavamo di far toccare il naso senza mettere niente sulla mano E lui ogni volta si grattava quindi Io ragazzi spero che questo video vi piaccia E aggiungiamo almeno i 20.000 20.000 like Ora che se non ci vedete altri video Mi dispiace che ci ammazzate Tutti a dire che Taso è morto Ma Taso è qui altro che addio Tarzan Tarzan è qui con me Vero Taso? Vero Taro? Vero Taro? Vero Taso è qui Vero Taso è qui con me Ma che te spalmi le cose da su? Ma che te si è lavato tutta la faccia? Ma? Ma che te la fa per dentifricio? è tutto il naso via il naso via ma qua tutto sporco no raga la cosa bella è che mio padre ha toccato tipo il naso scusate se non ho potuto riprendere però ovviamente mi stava guardando in faccia quindi non potete tirar fuori così la telecamera e quindi si è sentito tutto quanto l'audio poco per ore raga c'era tutto il naso bianco e facevamo i vaghi e mi dico mamma che te sei lavati i denti cioè proprio non te sei pulito se finimmo così semplicemente senza che gli diciamo ah non scherzo così un po' così e niente ragazzi io spero perché questo video mi sia piaciuto ragazzi ma sto dentifricio faccia no tu mi devi dire come ci è andato a finire ci l'aveva messo qualcuno ci l'aveva messo qualcuno ma tu ti sei lavato i denti tutti male ma ti sei lavato i denti male cioè ti sto riprendendo sta scena perché veramente fa paura ma ma ti sei chiesto come ci è andato a finire sto dentifricio ma non so noi ci avevamo messo come lo siamo messi ma ti sei sicuro e guarda guarda qua e dillo quindi niente ragazzi concludo qui il video mi raccomando stalkerate tutti i miei social network lo tenete sotto nella descrizione se siete iscritti 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 un'altra volta siete ancora più belli niente ragazzi vi vediamo un po' sui video a te pure il giorno ciao ciao